Catelle e sorelle bianconeri salve a tutti facciamo chiarezza una volta per tutte se mai ce ne fosse bisogno sul presunto scoop delle Iene e sull'inchiesta perseguita dal procuratore noto tifoso del Napoli per sua stessa ammissione più volte del procuratore Pecoraro un'inchiesta campata sul null e vogliamo ricordare per l'ennesima volta che relativamente a quel presunto giallo su Pjanic che dicono che modificò il corso del campionato eccetera 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 in quel famoso Inter-Juventus dicevo su quel famoso giallo di Pjanic non trovano in questa inchiesta alcuna intercettazione che sembra sia stata fatta sparire sia stata manomessa sia stata fatta sparire questa intercettazione col VAR tra orsato e il VAR ve lo dico un'altra volta per l'ennesima volta perché ve ne avevo già parlato l'intercettazione ovviamente non può essere trovata perché non esiste da protocollo cerchiamo cerchiamo ve lo cerco di darvela col cucchiaio col cucchiaino vediamo se lo capite non esiste alcuna intercettazione così ci siamo forse l'avete capito così devo dirvelo così per forza non esiste perché da protocollo non c'è colloquio per i gialli per i gialli per episodi di presunto calcio di rigore per episodi di gol irregolare e per i rossi per i presunti rossi c'è un protocollo sui presunti rossi il VAR c'è il colloquio col VAR ma non per i cartellini gialli per i falli da giallo non esiste non è mai esistito da protocollo il colloquio orsato VAR infatti se vedete è facilissimo basta guardare orsato che non dice una parola non parla perché non riceve comunicazione perché sui gialli non può intervenire il VAR come minchia devo farvelo capire ma veramente inchiesta campata sul nulla e trasmissione infame perché tante volte io ho lotato le Iene per servizi epici fantastici per aver perseguito la classe politica schifosa la famosa casta politica ci mancherebbe per tante volte le ho lotati tante volte tante volte ma quando fanno queste cose solo per seguire per seguire l'audience scoop campati sul nulla e là fate veramente vomitare le Iene fate vomitare in altri casi ancora di più come quando cercate di scagionare omicidi i delitti efferati come quello di Garlasco o di Cogne o quello di o quello di Rosa o Lindo cioè proprio campati sul nulla cercate di fare scagionare pure i serial killer la veramente mi fate vomitare vomitare e stavolta anche come altre volte fate vomitare perché prima o siete ignoranti che non vi informate prima sui regolamenti oppure semplicemente per rompere il cazzo alla Juve cavalcate l'onda del rompicazzo del rompere il cazzo alla Juve cavalcate l'onda assieme a quel porco di Pecoraro per sua stessa ammissione tifoso del Napoli ha sempre detto lui sono tifoso del Napoli come tutti i napoletani non possono vedere la Juve avete sentito l'altra volta il figlio il figlio di Maradona il bastardello il figlio il figlio illegittimo di Maradona forse è stato riconosciuto non sono da poco non so il bastardello io alla Juve che schifo vomitevole io la dignità non mai alla Juve ma che cazzo ti prenderebbe mai a parte che tu leccheresti il culo per venire alla Juve strisceresti a terra ora cavalchi cavalchi l'onda dell'anti-juventinità come faceva tuo padre che sei una cagata di mosca di tuo padre e vuoi farti bello con i napoletani un altro bastardello ma questo è un altro discorso questo è un altro discorso non parliamo del povero fallito del figlio di Maradona parliamo di Pecoraro del porco di Pecoraro e delle iene c'è un solo aggettivo per definire queste persone infami 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 oltre che ignoranti perché non documentarsi sulle cose è da ignoranti però soprattutto infami perciò iene vergognatevi le iene dovete vergognarvi perché con questi servizi delegittimate un programma sì perché con altri perché così facendo vi scavate la fossa per altri servizi magari più importanti e più più doverosi verso la comunità invece così facendo vi siete vi siete fatta terra bruciata attorno a voi cari iene andate a fanculo fino alla fine grazie a tutti